Ritorno sul tubo di Sisadini! Special guest Elisa! Siamo pronte per andare a Venezia! Scusate! Arrivate! Scusate! Noi oggi non ci siamo vestiti e siamo molto tristi! Ma quale volete voi? Questa? Io voglio la mucca! Io voglio la mucca! Guarda che bella cosa fa! Gatto? Piccioni! Oh mi piace! Oh! 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 Mi ricordate di eterno dormendo! Che l'ho sbevata! Insomma nessuno vuole sedersi dalla parte dell'acqua quindi siamo tutte da una parte! Comunque siamo al paradiso perduto! Eccolo qui! 3 spritz con 3 cicchetti! Tutto è pagato! 14 euro! 14 euro ragazzi! Top! 12 fiori a bagno sul latte! E' buono! 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 Comunque siamo quasi arrivate alla cale più stretta La cale più stretta di Venezia, ma c'è scritto che è la seconda più stretta del mondo Vuol dire che ce n'è una più stretta del mondo Chi va per prima? Voglio, dopo passo io Stiamo entrando nella cale più stretta di Venezia Beh, ora che abbiamo fatto anche questo possiamo tornare indietro Mamma mia di nuovo Comunque vi raccontiamo la leggenda su questa calle strettissima E praticamente se un assassino dovesse passare per questa calle Le due mura si stringerebbero e appunto ucciderebbero questa persona Se è veramente un assassino Quindi non siamo delle assassine ragazze Abbiamo finito i cicchetti e ci è arrivato la frittellina Sentiamo il commento della pasticcera Buone Piaciuto anche questo secondo aperitivo Ci hanno pure offerto le frittelline Molto bello, molto bello Solo perché siamo delle grandi grandi gnocche Cioè è bellissima Siamo appena uscite da il magazzino Sì Quello di prima Ma c'è anche Osteria al Ponte ci sta molto tentando Che famo? Che famo? Nemo un amo Nemo un amo Nemo un amo Eh ma dobbiamo provarli questi Non ne abbiamo mai provati Vabbè entriamo Vabbè vabbè Cosa vuoi che sia Cosa vuoi che sia Com'è la fruscia? Vabbè la frutta è fiori di zucca frutta Fiori di zucca Qua? 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 Brevetto Osteria al Ponte Copyright Se la comando Qua? Allora abbiamo preso la fiore di zucca Con l'acciuga Poi ho preso la polpetta con il gorgonzola noci spec Il polpetta di tonno com'è? Molto buona Sì? Molto buona Questa è molto mangiante È buonissima Osteria al Ponte Approvata Voto 10 Voto 10 E abbiamo speso 13,50 Praticamente quella che ha speso di più sono io perché prima non l'abbiamo detto Conto totale 18 euro signori Tutti qui Quella che ha speso almeno nell'onora praticamente E che abbiamo mangiato robe un po' più complicate Ma è bene La polpettina era veramente buona Comunque viaggiamo sui 15 euro di media Sì di media sì Sì 13,50 14,15 Reazioni a libreria acqua alta Però sono scritti i libri Che bello quando c'è gente Eh no Abbiamo deciso di tornare perché è lunedì quindi c'è poca gente E facciamo le persone attuali Così possiamo accarezzare i mici Mi guarda con diffidenza Ho perso le Elise Dove saranno finite? Eccole le Elise Quindi il micio voleva mangiarmi la mano Così L'ho trovata Che bello 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 Notare il traffico per farsi una foto nella sala di libri Oh 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 Uh oh oh Una curiosità su Venezia, ve lo dico io, qui ci sono ben 417 punti, di cui se non erro 57 privati, e poi insomma gli altri sono tra pietra e legno, però insomma 417 punti. Cioè è come se fosse un'amica, se vi scappa la pipì a Venezia mai andare su ogni pagamento, piuttosto prendetevi un'ombretta, ok, che risparmiate pure, perché 1,50 euro per andare in bagno, anche no. Ma perché secondo voi questa cosa non l'ha mai capita a nessuno, mi faccia sempre la coda? Eh vedi, perché non sono veneto, ma simbolo no? Vedi che anche i veri veneziani, ma io non l'ho mai capita questa roba. Anche i veri veneziani sanno queste cose. In base ai due orari. E' legato alla veneziana più polenta. Allora ho preso mozzarella in carotta con baccalà al mero di sessia e adesso asciazzo. Momento assaggio. E' un po' di baccalà dentro, è caldino, buono. E' assaggiare. E' un po' di baccalà. 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 Ed è di nuovo Natale. Ed è di nuovo Natale. Ma cioè alla porchetta. Se avete provato al più 90 milioni. ...merma no. Ma se ha la porchetta? Dellaroula. E prova. Ho provato al più 10 pinheiro. E ora provato al più primer di acerciò. Quella unaäischenina pardella. Nooo. Usa il caso del 2020. E' buono, mettete like se vi è piaciuto questo rossino, iscrivetevi, anche al canale Sisadini, anche se non è molto attivo ultimamente, e gli altri altri, devo rispendere però, Bigli, allora dovete venire al timon e provare i cicchetti e il vino della casa, il vino della casa, certo, quindi, super, 3 vini della casa, 3 cicchetti, 10 euro e 50, questo è il prezzo top di Oswald, è stato il prezzo migliore di Oswald, ed eccoci qua ragazzi, quindi questo era il video di Venezia, fateci sapere se vi è piaciuto il nostro video, chiaramente sì, poi vi porteremo in altri viaggi, però fateci sapere se il nostro video di Venezia vi è piaciuto, se vi è piaciuto, vi porteremo in un'altra città, per cui fateci sapere, ciao!